Siamo con Pietro Cogliati, neo capocannoniere della squadra. Pietro, 12 gol, hai già raggiunto il tuo record stagionale, questo già è un bel risultato. Sì, sono molto contento. Diciamo che dopo l'inizio di stagione, che qualche problematica fisica, ero un po' condizionato. Adesso, soprattutto in questo nuovo anno, sto riuscendo a raggiungere una continuità che per un attaccante fa sempre piacere. A proposito di nuovo anno, il 2022, l'abbiamo detto tante volte, per te è iniziato benissimo perché hai segnato parecchi gol e soprattutto parecchi gol decisivi. Mi pare che siano 15 punti portati in dote al San Giuliano. Sì, diciamo appunto che sono riuscito a fare dei gol. Quando un attaccante comincia a segnare, diciamo che poi è tutto in discesa. Infatti, come dire, i risultati poi vengono anche di conseguenza. Abbiamo davanti un reparto offensivo che sta facendo grandi numeri, non solo io personalmente, ma anche tutti gli altri miei compagni. E devo dire che questo ha aiutato di gran lunga la squadra in questo periodo, dove abbiamo avuto anche un pontour de force, con nove partite tutte ravvicinate e giocando ogni tre giorni, se non hai anche comunque una rosa lunga e a disposizione, non è mai facile. E poi, notizia del giorno, ti hanno fischiato due rigori. Sì, finalmente mi hanno fischiato due rigori. Tra l'altro non tre più evidenti che avevo subito finora, però sono contento anche perché soprattutto siamo riusciti a sistemare una partita che non si era messa bene col Desenzano e che comunque era fondamentale portare i tre punti a casa, essendo una nostra diretta concorrente. Cos'è cambiato dall'inizio della stagione quando magari hai trovato qualche difficoltà in più? Anche forse una collocazione tattica diversa oppure solo una questione, diciamo, di condizione atletica? Più che di condizione atletica, proprio fisica, nel senso che avevo un problema dovuto un po' a un ritorno di vecchia pubalgia, una roba del genere, quindi non mi permetteva di esprimermi al meglio. Però a prescindere da questo poi naturalmente eravamo tutti nuovi all'inizio e adesso cominciamo a conoscerci. Il mister sta facendo un ottimo lavoro anche come gruppo e non solo sul campo. e di conseguenza i risultati si stanno vedendo e stiamo portando a compito il nostro obiettivo che è quello di rimanere primi il più possibile. E niente, vediamo di continuare così. Volete rimanere primi il più possibile, quindi anche fino alla fine del campionato, immagino? Assolutamente. Il nostro obiettivo è, come dice il Presidente, fin dall'inizio del campionato è quello di divertirci. E naturalmente vincere per me è divertirmi. Allora capitano, per domenica cosa prevedi? Beh, domenica sarà una partita difficile, sicuramente, perché comunque è un avversario che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Speriamo che i nostri assi, tra quale il pedone, faccia la differenza come sta facendo ultimamente. Ma anche adesso il suo spirito ci accompagna, anche quando ha seguito i capelli. Adesso torniamo un attimo seri. Emanuele, il gesto di domenica è stato molto apprezzato, ha fatto parlare. Tu lo so che non l'hai fatto per quello, però comunque è stata una cosa bella e coinvolgente, soprattutto per i ragazzi, come mi hai detto. Sì, non mi aspettavo così tanta risonanza anche a livello pubblico, sui social di questo, perché comunque è stato un gesto veramente naturale. Poi io, al contrario di tanti miei compagni, sono vecchio e ho figli, quindi appena ho visto loro mi è venuto subito quasi naturale coinvolgere dei ragazzi che potrebbero esserlo. I miei figli, i miei bimbi erano in tribuna al di là della rete, mi è venuto naturale anche perché li vedevo lì, spesso li coinvolgiamo nelle situazioni, diventano anche a volte decisivi e qualcuno lo è stato anche in passato, anche in Serie A. Ed è stato naturale, poi è stato apprezzato, è una bella cosa perché comunque, l'ho detto anche a te, è un periodo in cui stanno vivendo loro qualcosa che non neanche riusciamo a immaginare, perché comunque in età particolare, e riuscire a coinvolgerli in quello che è stato il festeggiamento di una vittoria importante, mi è venuto naturale e so che è stato apprezzato e mi fa piacere. Chiaramente parlevamo... Oggi sei... Stai pensando a Stefanone! Chiaramente stavamo parlando appunto del gesto di Manuel che domenica dopo la partita ha coinvolto tutti i raccattapalle al festeggiamento al centro del campo con la squadra e quindi questo è stato il gesto che vi abbiamo raccontato e molto apprezzato da tutti. Manuel